Oggi era il gran giorno dell'interrogatorio di Ludovica Perrone, l'ex amante di Salvatore Parolisi. La soldatessa era stata convocata per questa mattina alle 9 dal sostituto procuratore Davide Rosati, titolare delle indagini sull'omicidio di Melania Rea. E in un primo momento si era pensato che l'audizione dovesse tenersi in procura a Teramo, ma i PM e Teramani erano usciti molto presto dalla stessa procura, aggirando i cronisti. Il mistero sul luogo dell'interrogatorio è continuato con voci che volevano la soldatessa presso la caserma dei Carabinieri di Teramo in Piazza del Carmine e qui si erano appostati anche i giornalisti con telecamere e fotografi. Ma probabilmente si trattava di un altro depistaggio per tenere lontani gli stessi giornalisti. Da quel che si è appreso, l'interrogatorio sarebbe iniziato comunque attorno alle 11 e starebbe avvenendo in una caserma nei pressi dell'Aquila. La Perrone dovrà chiarire ai magistrati le centinaia di pagine diverbali dell'interrogatorio dello scorso 5 maggio in cui ha raccontato della sua relazione con il caporal maggiore, svelando le volte in cui Melania, la moglie di Parolisi, l'ha chiamata per telefono e chiedendole di lasciare suo marito. La Perrone ha finora sostenuto che Parolisi non avrebbe nulla a che fare con la morte della moglie. Da lei gli inquirenti sperano di ottenere ulteriori particolari utili a chiarire il possibile removente dell'omicidio di Melania.